Ospitiamo adesso il sindaco di Salento, Gabriele De Marco. Gabriele, ben trovato. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. Come stai? Sei inizio per il Tammorra Fest, ti vedo. Sì, sono entrato nel ruolo, nella parte. Che aria ti respira? Guarda, c'è un'aria di grossa. Di grossa attesa per questa manifestazione, perché diciamo che la verità è anche piuttosto nuova, si può dire, per la zona, quindi soprattutto per Omniano Scaro, la frazione Fasano, le due nostre frazioni, sia di Omniano che di Salento. E quindi è un evento ovviamente senza precedenti, sia dal punto di vista organizzativo, e di questo ringrazio i due amici dell'associazione, Francesco Gairone e Giacomo Muscariello. Poi ci sei tu, come direttore artistico e Cilento Cianno, l'amico Raffaele Montelli. Abbiamo accettato subito questa proposta che ci ha fatto l'associazione. e ovviamente nonostante i problemi che teniamo come comuni, abbiamo cercato di fare uno sforzo supplementare sperando che possa essere questo l'iniziativa, un percorso che venga portato avanti poi nel tempo. e quindi aspettiamo veramente, ho visto ovviamente da tutti gli artisti che verranno questa valorizzazione di questi artisti regionali, del nostro folklore, delle nostre tradizioni, sono importanti. E quindi per questo abbiamo intrapreso questo percorso, speriamo che in questi due giorni riusciamo ad ottenere i risultati per i tanti sacrifici fatti da ogni punto di vista, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista economico. Insomma tu sai, no? Perché sei stato, sei dei nostri, quindi sai pure quanti sacrifici ci vogliono e che difficoltà hanno sia le nostre amministrazioni per un'organizzazione simile nella quale bisogna chiudere le strade, bisogna, insomma veramente è una cosa impegnativa. Quindi aspettiamo con molta trepidazione ma con anche molta fiducia che cosa succede in questi due giorni. Devo dire che devo dare merito a te e al sindaco di Omignano per questa sinergia di intenti, perché naturalmente da soli non si va da nessuna parte, quindi tutto questo lascia ben sperare per un prosieguo futuro sempre più in sinergia, perché realizzare delle manifestazioni insieme sicuramente paga. Sindaco, devo dire che Omignano, insomma è Salento, sono due realtà molto ben collocate, lo diceva anche il sindaco ieri di Omignano, sono al centro tra Agropoli e Vallo della Lucania con l'uscita direttamente dalla strada cilentana, dalla superstrada cilentana e anche la stazione ferroviaria. Quindi siete collegati benissimo da questo punto di vista, diciamolo bene, ai nostri telespettatori che ci seguono da tutta la regione. Sì, abbiamo una posizione baricentrica per tutta la Valle della Lento, tra l'altro facilmente raggiungibile come dicevi tu, abbiamo anche le stazioni ferroviari, abbiamo Omignano, Vallo Scalo, che è a due chilometri da noi. Quindi la situazione logistica è molto favorevole, dunque di facile raggiungimento da parte di coloro che vogliono godere e fruire di queste due giornate. La sinergia, tu lo sai, è importantissima, non importante, ma perché crea anche entusiasmo nella gente e tra l'altro c'è un risparmio di costi, c'è un'efficienza maggiore con un risparmio di costi, sono solo benefici da queste sinergia, ci sono solo benefici. Io da quando faccio il sito ormai sono otto anni, tu mi hai già conosciuto, in altre manifestazioni sai che io sono stato proprio sempre un fautore dell'allargamento del perimetro comunale e delle associazioni con altri comuni. Tra l'altro oggi sono presidente del Gallo, tu lo sai, sono stato votato quasi all'unanimità, questo mi fa piacere perché significa che hanno riconosciuto anche in me questa vocazione al territorio più che chiaramente solo al mio comune. Poi insieme a Montendi in pratica abbiamo una strada che divide due comuni ma sostanzialmente sono delle realtà simili. Abbiamo parenti che vivono da un lato della strada e cugini che vivono dall'altro lato. Insomma non si può fare a meno di pensare quando si opera questi tipi di discorsi soltanto per questioni stupide, questioni campanilistiche che purtroppo ci sono state e magari ancora ci sono e frenano lo sviluppo del nostro territorio perché se c'è una grande responsabilità nostra e permette di parlare di noi cilentani che pure siamo tenaci, siamo anche valorosi, siamo anche coraggiosi, però purtroppo spesso questo sentimento di troppo individualismo e magari anche egoismo e gelosia per i nostri territori non ha portato sviluppo, non ci ha portato bene e dunque adesso è ora di cambiare. E mi pare che in effetti così, stando a contatto anche con gli altri colleghi sindaci, tutti quanti siano nella determinazione che bisogna unire le forze come per esempio abbiamo fatto per intercettare i fondi del PNRR, siamo 21 comuni, siamo associati a 21 comuni, non solo con questo. Poi con Raffaele Mandelli abbiamo dato la logistica e dato anche l'amicizia che ci lega, che anche questo è importante, che spesso i rapporti interpersonali influenzano anche le scelte della politica e quindi questo ha fatto sì che la nostra amicizia ci portasse su posizioni simili nell'interesse ovviamente dei nostri concittadini. Anche se spesso viene equivocata nel senso che ci sono sempre le gelosie, io lo dico a Raffaele che ogni tanto si lamenta di questo, io ho detto tu, noi dobbiamo andare avanti. E non pensate a nessuno perché alla fine, essendo noi le guide di questa comunità, ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. e quindi spesso dobbiamo vedere più lontano degli altri. Se siamo convinti di noi che le cose fanno bene al nostro territorio, chi più di noi che è il polso della situazione economica, pratica, di quello che facciamo e della forza anche che diamo rispetto a chi ci vede? Perché già due sindaci, già siamo diventati un comune di quasi 5.000 abitanti, mentre il diverso è partire con un comune di 1.500 abitanti. e diamo anche l'idea di una forza e di un'armonia che fa bene a noi e fa bene al nostro territorio. Quindi se questa cosa l'abbiamo potuta fare è proprio perché siamo stati tutti d'accordo, perché un solo comune non poteva reggere questo sforzo. tra l'altro è uno sforzo per forza comune perché viene fatto sul territorio di tutti e due i comuni. Insomma ci sono tante cose positive in questo Tamorra Fest. Speriamo che la giornata ci dia un bel riscoglio, siamo molto fiduciosi. Esatto, io ne sono convinto. Voglio adesso affrontare un focus sul tuo comune, Salento, così come abbiamo fatto con Mondelli, per raccontare brevemente ai nostri telespettatori le bellezze di questo comune. Allora in modo sintetico Gabriele, chi verrà al Tamorra Fest potrà anche visitare Salento e non il Salento, ma Salento, comune di Salento. Diciamola questa perché secondo me molti si sono confusi, ho sbaglio Gabriele, più volte qualcuno avrà pensato che ci troviamo in Puglia. Non è una battuta questa, hai proprio indovinato perché spesso poi i navigatori, loro mettono Salento e li portano qui. Arrivano con il navigatore e pensano ma dove? E gli devo spiegare, guarda questo non è il Salento del Nepuglio, questo è il Salento. Tanto è vero che avevo avuto un'idea che chiaramente non è il tempo adesso di portarla avanti perché ne sto parlando e poi magari su questo ovviamente non voglio decidere da solo ma se diciamo la cosa continua, userò l'arma del referendum popolare per il nostro comune. Io volevo aggiungere, per evitare questa confusione, volevo aggiungere Salento-Cilento. Cioè proprio cambiare il nome al nostro comune in questo senso. Salento-Cilento, proprio per puntualizzare e far capire che questo è il Salento del Cilento. Sono d'accordo Gabriele, sono d'accordo con te. Sì, allora ovviamente sono i favorevoli contrari, però sto sondando le acque. Poi ovviamente se mi convinco che la cosa può andare sottoporremo tutto regolare il referendum e quindi sarà la popolazione, io credo che ci farebbe bene aggiungere questo appellativo. Uno per Salento e l'altro anche per il Cilento. E soprattutto diventeremo ancora più centrali nel nostro Cilento. E soprattutto, come dicevi tu, non ci confonderanno con Salento e le Puglie perché è una storia infinita questa di Salento-Cilento. Per quanto riguarda gli appuntamenti, per quanto riguarda le bellezze di Salento, è ovviamente il paese dell'interno, ma noi abbiamo un vantaggio rispetto ai altri paesi dell'interno che siamo un paese con le caratteristiche dei paesi dell'interno, ma in realtà siamo vicino alla stazione, ma tanto è vero che lo spopolamento, grazie a Dio, ancora non ci ha colpito in maniera pesante se pensi che Salento ha avuto al massimo della popolazione 2.050 abitanti e oggi siamo 1.956, siamo quasi 2.000, rispetto tu sai a altri comuni dell'interno che hanno perso il 50-60% e se questo è successo è perché per la nostra vicinanza e tra l'altro dico di più, adesso abbiamo messo in cantiere la manutenzione e soprattutto la strada degli agriturismi, che è la strada che ci porta in 4 chilometri a Salento sarà messa a posto, abbiamo avuto un finanziamento di 600.000 euro, sarà tutta asfaltata, guarderà il allargamento di curve, quindi praticamente sarà ancora più facile raggiungere il nostro comune rispetto alla provinciale che sono 8 chilometri, quindi giusto il doppio. Allora anche questo secondo me consentirà al cittadino di raggiungere Salento dalla stazione in 5 minuti e quindi con una maggiore fruibilità. Ci sono dei palazzi antichi molto belli, soprattutto abbiamo dei prodotti tipici, tipo lo stufolone, le foglie patate, abbiamo gli agriturismi, abbiamo sette agriturismi, insomma da questo punto di vista Salento è messo abbastanza bello. C'è ovviamente, sulla nostra tempetella c'è una visuale di tutti i cilenti a 360 gradi, insomma Salento è un bel paese, devo dire la verità, non perché chiaramente è sempre il mio paese e ognuno ha il proprio paese nel cuore, cioè ogni mamma ne pare bello un figlio suo, no? Si dice questa parola pura d'agropoli, no? E si dice pure qua, però veramente chi viene a Salento, ma soprattutto troverà l'ospitalità dei salentini, perché abbiamo tanti difetti, come tutti, tra l'altro, però abbiamo un grosso senso dell'ospitalità, e soprattutto verso le persone che vengono da fuori, quindi tanto è vero che quando vengono a Salento poi difficilmente non ritornano queste persone, perché è anche l'accoglienza delle persone importante, cioè farli sentire, li facciamo sentire, non forestieri, ma salentini. Tra l'altro abbiamo una tradizione che i paesi vicini ci riconoscono, siamo un paese dove a qualsiasi ora del giorno e della notte tu trovi persone, quindi questo è un paese che se tu vieni alle 3, alle 4 di notte, spesso trovi anche i barra perli, soprattutto l'estate, e trovi gente in piazza, e quindi questo ti dà l'idea del salentino. Il salentino, io ho sempre detto, vive al di fuori della casa, non vive nella casa. Nella casa ci va per fare il bisogno, per mangiare, per dormire, ma per il resto a Salmina piace stare fuori e soprattutto in piazza. E tra l'altro dico anche un'altra cosa, che adesso a breve inizieranno i lavori della nostra piazza, che ho già allargato per quello che ovviamente mi era consentito, che non potevo spostare ovviamente né la chiesa, né il municipio, né le case che stanno intorno, però ho tolto degli orpelli, dei pali di illuminazione che li abbiamo visti sopra. Insomma, se vieni oggi nella piazza di Salmina, troverai, perché questo è l'unico spazio che noi teniamo, e l'unico spazio che usiamo per tutte le feste. E quindi ho cercato di poi, adesso li illumineremo in un certo modo, metteremo a posto anche, diciamo, il fondo stradale, e questi soldi li ho presi con il GAL, quando non ero ancora presidente, però. E quindi abbiamo fatto anche questi, abbiamo vari lavori. Poi l'ultima cosa, se vi posso dire, abbiamo un ricco parterre quest'anno, perché siamo entrati, grazie anche al mio ottimo ragioniere, siamo entrati in due POC, e quindi abbiamo avuto quest'anno a disposizione una bella somma da mettere a disposizione per le feste, ovviamente. Ti dico che, ne dico solo qualcuno, il 30 verrà Masciatelli con la sua banda, il 30 luglio, il 18 agosto ci sarà Uccio De Santis, il ritorno, con la sua, penso che tu lo conosci, tutti quelli che usano internet, gli piacciono gli sketch sui carabinieri soprattutto, conoscono chi è Uccio De Santis. Insomma, abbiamo vari artisti che verranno qui, sia a Salento che anche a Omignano, alla nostra frazione. E a parte poi le altre cose che verranno insieme a Raffaele Mondelli. Ne abbiamo già fatta una, abbiamo fatto la Miss Sud, è roba di qualche giorno fa, pure l'abbiamo fatta insieme con Raffaele, eppure è stato un bellissimo spettacolo. L'abbiamo fatto su Piazza Sant'Antonio, sempre, diciamo, in collaborazione, in sinergia con il comune di Omignano. Gabriele, io non posso altro che farti i complimenti per tutte queste iniziative, per la tua capacità amministrativa, ti conosco da tempo, insieme a Menotti Lerro ci siamo conosciuti, con quel gran premio della poesia del Cilento, anzi ne approfitto per salutarlo, e per chiederti se ci dovesse essere una edizione quest'anno, perché non è giunta notizia fino adesso. Ti ringrazio, te lo volevo dire. Praticamente sì, quest'anno ci sarà il 10 agosto, noi l'anno scorso la data l'abbiamo cambiata perché la grande Dacia Maraini non poteva venire il 10 agosto, non potevamo perdere una scrittrice di quel livello e l'abbiamo fatta a luglio. È stata un'eccezione, penso che comunque un'eccezione andava fatta per Dacia Maraini che è stata qui l'anno scorso. Quest'anno è ritornata la solita data, la data del 10 agosto. Ci sarà Valerio Magrelli e Zio Neri, ma Valerio Magrelli sarà quello presente. Il 10 agosto poi ci sarà il moderatore, il moderatore sarà Peppe Iannicelli, l'amico giornalista Peppe, e poi c'è Sandino, ovviamente Gallibert canterà, c'è il 2 Mogroveio e poi ci sarà una novità, ci sarà un coro, un coro bellissimo, formato da 12 persone, un coro regionale e insieme poi ovviamente a Menotti che è ovviamente il dominus della manifestazione. Quindi il 10 agosto, mi raccomando, a Salente c'è sempre questo famoso, ormai posso dire famoso, premio nazionale di poesia. E il vincitore è proprio appunto questo Valerio Magrelli che per chi è specializzato in materia sa che il livello di artista e di poeta è, tant'è vero che sembra sia in odore di Nobel. E quindi se poi questo Valerio Magrelli veramente vincessi il Nobel possiamo dire di aver raggiunto il top, di aver ospitato in un piccolo... Probabilmente è arrivata una telefonata al sindaco... Eccolo. Gabriele, ci senti? Sì, ci sento. Via l'audio per qualche minuto. Dicevo, ti faccio i complimenti soprattutto per l'idea, insomma, di installare una serie di mattonelle con soprainciso le varie poesie di questi grandi artisti. A quante mattonelle siamo arrivati? Ormai sono 3, 4, 5 anni che Salento ospita questa manifestazione ed è bellissimo soffermarsi tra i vicoli, le strade principali di Salento e leggere queste belle poesie. Sì, sono ormai più di 50. Quest'anno perché, diciamolo per i spettatori, diciamo che l'idea è stata quella che questi artisti che vincono il premio ci devono regalare degli inediti delle loro poesie che noi provvediamo a far incidere su delle mattonelle di ceramica e le affiggiamo alle mura del nostro comune. Ma soprattutto la sera poi della manifestazione il poeta che ha vinto sarà stesso lui con un amico ovviamente che è muratore che collocherà su... di solito lo facciamo fare sulle mura del municipio ma mi sa che quest'anno fosse l'ultimo spazio utile dovremmo trovare qualche altro spazio metteranno loro stesso metteranno la mattonella con la loro poesia sulle mura del municipio ed è una cosa che ti devo dire la verità è una cosa che lascia praticamente molto sentita da parte di questi artisti perché poi non sai le telefonate che mi fanno di come sono contenti cioè crea un legame ma quasi di sangue fra l'artista e questo paese perché sanno che c'è questa mattonella che hanno messo stesso loro hanno in visto sulle mura del comune e che è un inedito loro è veramente una cosa che adesso abbiamo dei più grandi tu lo sai no? perché tu ci sei stato quindi si può dire i più grandi poeti non solo d'Italia e teniamo questi inediti di queste mattonelle messe sulle mura di Salente quindi e ti dico di più sono alcuni anni che ormai le scuole puntualmente fanno bene ovviamente i direttori ci mandano questi ragazzi che vengono a leggere le poesie sulle mura di Salento poi abbiamo anche abbiamo anche quella del 10 agosto poesia di Pascoli che l'abbiamo l'abbiamo eletta emblema della nostra manifestazione come ne abbiamo qualcuna di Leopardi abbiamo l'Infinito l'abbiamo messa sulla Tempetella lì sul famoso Colle e quindi abbiamo anche insieme a queste abbiamo messo anche delle poesie più conosciute di grandissimi poeti e quindi che ti devo dire ti dico l'ultima cosa questa è l'inedito che adesso ti dico il 17 dicembre Wikipedia Poesie verrà qui a Salento a fare una manifestazione quindi siamo arrivati nel cuore proprio della 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 letteratura diciamo della poesia tu sai benissimo l'importanza di Wikipedia mi hanno scritto vai per un altro giorno e io gli ho dato l'ok quindi te lo dico già in anticipo che a dicembre avremo anche questa manifestazione e questo ovviamente grazie al premio Celenta Poesia che ormai è diventato un cult diciamo per la zona e poi c'è la festa della castagna che ha raggiunto la cinquantesima edizione però purtroppo su questo ancora pende l'interrogativo l'interrogativo di questa maledetta pandemia quindi sto ancora valutando anche se non ho tanto tempo più per valutare perché questa è una festa che mi ha preparata qualche mese prima diciamo che il barometro è più sul sì che sul no però c'è questa incognita che ancora mi frena perché quando dicono questi ondaggi pare che poi nel mese di ottobre si raggiunga il picco ma non lo so comunque questa pandemia ci ha rovinati tu lo sai e non se ne vuole andare io dico sempre alla gente continua a dire di stare attenti di mettere la mascherina però capisco che la gente è arrivata a un punto limite ed è tanto difficile adesso è vero che anche lo Stato diciamo ha sbaracato diciamo quello che uso un termine secondo me corretto da questo punto di vista che a me per esempio non arrivano quasi più neppure arrivano dopo una settimana arrivano le notizie dei positivi quando quelle notizie che arrivano dei positivi sono già negativizzati questo ti lascia capire quale attenzione oggi ormai sia l'asso e quindi lo Stato su questa su questa pandemia e va bene certo ne approfitto magari per chiederti anche se sei stato alla riunione mi sembra di ieri dei sindaci del distretto 70 non so se Salento fa parte del distretto 70 mi sembra di sì e questo insomma sottolinea la nostra debolezza non solo come amministratori come cittadini come giornalisti di fronte a una sanità che doveva essere ben altro soprattutto dopo il post covid invece sembra che si vada all'indietro sentiamo un velo pietoso su quello che ho sentito che già si sapeva però là ovviamente sono stati snocciolati i numeri sono delle problematiche così grandi noi adesso cercheremo al momento per quello che possiamo fare in realtà siamo un organo sì politico ma più che altro consultivo anche se ovviamente se fossimo tutti uniti sarebbe la voce di circa 70 sindaci non sarebbe poco ci faremmo sentire però ci sono anche dei problemi strutturali dei problemi di medici che non ci sono di concorsi che vanno quasi deserti di medici che non vogliono venire nei comuni interni sono problematiche talmente grosse che ti metti le mani nei capelli e purtroppo noi parliamo della nostra salute di quello che può capitare ad ognuno di noi nel momento in cui ha un problema è un problema di salute adesso noi ci siamo riuniti per cercare almeno di salvaguardare un po' con le emergenze estive perché ci troveremmo con soprattutto i paesi costieri come pure anche Agropoli ovviamente si troverà in una situazione particolare per quanto riguarda la questione delle guardie mediche insomma la problematica è grossa non è veramente grande e l'ho toccata con mano l'altro giorno dove siamo stati io devo essere sincero io per 8 anni sono stato convocato quindi ringrazio ringrazio il sindaco Botti che dopo che noi abbiamo eletto presidente 7 e mezzo fa ci ha fatto già una convocazione e abbiamo cominciato a capire da dentro i problemi dell'ASL e della nostra zona soprattutto però sono problemi ecco tu vi dicevi già sul PNRR è certo però per agganciare quelle risorse le risorse non si agganciano ecco come hanno messo i soliti paletti forse li capisco pure quindi non è che si agganciano se non si fa una ristrutturazione e se non si risponde a determinate esigenze i soldi del PNRR anche per la sanità se ne andranno da qualche altra parte e se non agganciamo adesso questo treno come anche con i comuni e allora veramente saremo condannati purtroppo saremo condannati a una a una irreversibile secondo me un irreversibile tornare indietro oggi è un momento decisivo per le nostre comunità lo dico veramente con cognizioni di causa e con tutta la diciamo la gravità oggi è un momento decisivo perché per la prima volta questi soldi ci sono cioè ci sono i soldi però intercettarli non è facile dovrà essere e non basta la nostra volontà mi devi credere non faccio per dire che noi sindaci non abbiamo le nostre responsabilità ce le pigliamo anzi siamo quelli che siamo l'ultimo front line rispetto alla gente noi siamo noi viviamo sul fronte al contrario di politici che stanno a Roma che fanno tutti i loro giochetti e secondo me non si rendono conto veramente adesso ci hanno criticato io sono stato uno di quelli che ha fatto l'appello a Drani e non me ne vergogno certo anzi sono orgoglioso di quello che ho fatto perché noi sindaci sappiamo sappiamo di quello che ha bisogno la gente sappiamo che ci chiede la gente giorno per giorno sappiamo che non possiamo rallentare niente di quello che stiamo facendo e invece dobbiamo vedere i nostri politici che per i loro giochi di potere poi al di là di tutte le chiacchiere che si fanno che sta palora nel superiore interesse dei cittadini è una parola che ormai divene solo uno slogan ma quello si vede con i fatti l'interesse dei cittadini non si vede con le chiacchiere e noi noi sindaci che vi incontriamo ogni giorno che ogni giorno sentiamo i loro problemi sappiamo benissimo quali sono i loro bisogni e di che cosa abbiamo bisogno e dunque ecco io ti ho detto proprio questo per dirti parlare di sanità e certamente non voglio scoraggiare le persone però ci sarà molto da lavorare molto alacremente e insieme tutti quanti per dare per raggiungere un po' questa questione sulla sanità senza poi entrare nel problema politico che possa sempre alla base di tutte le cose però lì poi bisognerebbe entrare in altri discorsi che in questo momento non voglio affrontare anche per te perché noi ovviamente stiamo parlando di Tamorra Fese poi se un giorno vuoi sentire come la penso sulle altre cose sai che sono uno che dice sempre pane pane e vino e vino è vero questo e per questo insomma andiamo d'accordo perché sei una persona davvero sincera e diretta allora Gabriele avremo sicuramente modo di affrontare il discorso sulla sanità del Cilento e non solo e capire insomma quali sono le responsabilità e noi come pure voi nel nostro piccolo cercheremo di dare il contributo per migliorarla noi dal punto di vista dell'informazione e voi dal punto di vista dell'impegno come hai detto prima con un'unione forte di tanti sindaci per far sentire sicuramente in regione la nostra grande voce detto questo ti lascio l'ultimo messaggio per sabato e domenica col Tamorra Fest invita tutti quanti coloro che ci seguono dalla regione Campania a venire a Salento e Omignano per questa grande festa Sì invito tutti i cittadini nostri della regione Campania anche se ci sente qualcun altro al di fuori della regione di venire veramente queste due sere una delle due sere magari tutte e due a noi non ci dispiace venire veramente a questo Tamorra Fest perché è uno spettacolo molto importante ci sono tantissimi artisti anche del Napoletano del Salernitano Cirentani e quindi veramente poi ci sono gli stente ci saranno veramente ci sarà da divertirsi siamo sono io stesso curioso essendo il primo anno di assistere a tutta questa manifestazione tra l'altro siccome abbiamo amici che l'hanno organizzata come anche il direttore artistico che sei tu sono convinto che sarà una bella manifestazione veramente vi perdete vi perdete una bella manifestazione dunque sabato e domenica tutti a Salente Romignano in effetti alla frazione Romignano Scala la frazione Pasana a gustarci di questo questo grande evento va bene? io aggiungo a partire dalle ore 20 con tutto il percorso per seguire gli eventi durante tutto tutta la la strada insomma che ripercorre i due comuni e poi alle 22 con i grandi concerti direttamente dal palco centrale grazie al sindaco di Salento Gabriele De Marco arrivederci a presto sui canali di Cilento Channel e arrivederci a domani per il Tamorra Fest a presto a presto a presto a presto a presto